... Mercoledì 12 giugno, buongiorno e ben ritrovati. Puntuali come sempre per la nostra rassegna stampa e il nostro consueto appuntamento del mattino. Andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani in Edicola stamane, vediamo quali sono i temi caldi, gli argomenti principali di oggi. Come sempre lo faremo scoprendo le anticipazioni sulle varie prime pagine. E allora cominciamo subito il nostro giro, partiamo dal quotidiano alla Sicilia. Tra le altre cose si parla anche di sport, gli europei di atletica, grandi risultati per gli azzurri, sua altezza. Questo il titolo, li vedete nella foto Gimbo Tamberi e la presidente Mattarella. Tamberi nella leggenda si conferma re dell'alto agli europei. Anche Mattarella nello stadio in delirio, Battocletti, fantastico bis sui 10.000. Dunque davvero complimenti ai nostri azzurri, stanno ottenendo risultati fantastici agli europei di atletica. Altre notizie sul quotidiano alla Sicilia, Europa al bivio, destra moderata con i lepenisti. Terremoto in Francia, Macron resiste, anche le borse temono l'effetto dell'intesa. Intanto Giorgia Meloni prepara il G7 e guarda Bruxelles, al vertice di guerra ci sarà anche Papa Francesco. Regione siciliana, lo scenario post voto. Tamayo riflette, chi mi ci aspetta, il piano B, lei assessora alla salute, giunta, chi esce e chi può entrare. Dunque all'interno stamane della Quotidiano la Sicilia, poi tutti i possibili scenari, i cambiamenti probabili in giunta, nella giunta regionale, chiaramente dopo le elezioni. Parla De Luca, addio sogni da leader nazionale, regione primarie di coalizione nel 2026. La cronaca, bambino ucciso di botte, ergastolo a madre e patrigno, in appello l'orrore di Rosolini, mentre in taglio laterale è condannato l'alias di Messina Denaro, chiesti 15 anni per l'amante del boss. Si parla in questo caso di favoreggiamento. Reggio Calabria, affari tra politica indrangheta, indagati sindaco, demma e capogruppo di Fratelli d'Italia. E poi nuove simulazioni, guardate un po' chi ha 30 anni andrà in pensione soltanto a 70 anni. Questo invece è quanto avvenuto sull'autostrada A18, io eroe per caso, gelataio rinfresca con le granite, gli automobilisti bloccati in coda lungo l'A18. Dunque questo gelataio, vedete, quantomeno ha provveduto a rinfrescare gli automobilisti ormai rassegnati, che praticamente tutti i giorni restano incolonnati, bloccati su questa autostrada. Giro delle città partendo da Catania, ruba un telefonino ai varchi di sicurezza, Bimbo non respira, salvato invece dai poliziotti, siamo nella Cese. E poi a Taormina la minoranza si rivolge al sindaco Cateno De Luca, l'una di miele finita. Lasciamo il quotidiano alla Sicilia, restiamo però nell'isola, andiamo a vedere la prima pagina del giornale di Sicilia. La politica in primo piano parte il pressing su Schifani. Il presidente non intende spostare gli equilibri della sua squadra, ma gli alleati sgomitano. La Lega punta i piedi su Turano, la Savarino potrebbe prendere il posto della Pagana. E poi varie dichiarazioni di esponenti politici dopo il voto. Partiamo da Falcone, basta decisioni calate dall'alto, con Renato qualche divergenza. Renato chiaramente è la governatore Renato Schifani. Apriamo una riflessione sia al progetto comune coi democratici, in questo caso parla Antoci del Movimento 5 Stelle. E poi Razza, Fratelli d'Italia, siamo l'unica forza che è cresciuta, altri solo perché aggregavano. Altro intervento, troppi astenuti, vanno superati i pregiudizi sulla inutilità delle votazioni. Perché, lo ricordiamo, il vincitore, tra virgolette, di queste ultime elezioni è stato il partito degli astensionisti. Sono stati davvero tanti coloro che hanno deciso, oltre il 50%, che hanno deciso di non votare, dunque di non scegliere, di manifestare, in certo senso, la propria disapprovazione per questa politica europea. Si votava per le europee, ma ricordiamo che si votava anche per le amministrative. Il testo in commissione a Lars spunta una manovra da 200 milioni e poi l'emergenza si cita sempre in primo piano la crisi idrica che sta tartassando la Sicilia, che sta colpendo allevatori, produttori, ma anche singoli cittadini. Allora scoppia, vedete, la guerra dell'acqua, la drammatica situazione nel palermitano, con lo spettro del razionamento in molte zone della città, che chiaramente fa scattare l'allarme all'AMAP. La cronaca condanna a 14 anni per il prestanome di Messina Denaro, questa è la sentenza del GUP di Palermo, e poi Movida, sia alla musica fino a notte nelle zone balneari, telefonini e droga con i droni ai detenuti del carcere a Lucciardone. In taglio alto si parla di calcio europei, in Germania sale la febbre per gli azzurri, ovviamente in bocca al lupo agli azzurri di Spalletti. Notizia di cronaca da Modena, uccide la moglie e porta il cadavere in caserma. E poi la situazione della guerra in Medio Oriente, con Hamas che accetta la risoluzione per il cessato il fuoco dell'ONU, ma per Israele la guerra non è finita, segnali di speranza comunque a Gaza. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, vediamo cosa ci propone stamane in prima pagina la Gazzetta del Sud. Si parla ancora di elezioni europee, il post-elezioni chiaramente, la mappa del voto europeo a Messina. Città ai raggi X, un'analisi mirata, l'esito nelle varie sezioni, chi ha vinto e dove. Il silenzio di De Luca, sorrisi e frizioni nel PD, tradimenti nella Lega. Altre notizie in prima pagina sulla Gazzetta del Sud, croce e i casi di corruzione, in 14 davanti al GUP a luglio, l'appalto a Messina e i favori elettorali. E poi anche a Messina, non soltanto nel Palermitano preoccupa la crisi idrica, parla Basile, dovremo fare riduzioni, le fonti non coprono il fabbisogno. E allora anche a Messina, potrebbero esserci dei razionamenti, si preannuncia un'estate caldissima e problematica da questo punto di vista. Francia, intanto altro scossone, repubblicani con Le Pen, gli eredi dei neogollisti si accordano con l'ultradestra. Macron, io comunque non mi dimetterò, queste le parole di Macron. Borse tutto in rosso e sale lo spread, Meloni invece prepara il G7. Occhio invece a questa sfida da parte di Putin, navi russe a Cuba per un'esercitazione. Intanto Hamas accetta la risoluzione ONU per il cessate il fuoco. Lasciamo anche la Gazzetta del Sud, restiamo però nell'isola con l'edizione di Palermo della Quotidiano alla Repubblica. Tra le altre cose si parla di cronaca, un problema decisamente grave. Guardate un po', cocaina e hashish si comprano anche su Telegram. Pagamenti con Paypal, consegne a casa, ma le indagini sono complicate. La app di messaggi ha sede a Dubai. La sentenza prestò l'identità al boss Matteo Messina Denaro, condannato a 14 anni. Ma si parla ancora di elezioni anche su Repubblica Palermo, PD e Fratelli d'Italia, i giganti malati. L'effetto Schlein si è fermato al di là dello stretto. Risultati deludenti, fra i big c'è area di congresso. I meloniani superati da Forza Italia si spaccano. Nel mirino i due coordinatori, meglio avere un leader unico. Bartolo accusa, noi Demma non siamo riusciti a parlare ai giovani. Dunque la politica vedete che adesso si rimprovera, che si chiede il perché, cosa non sia andata per il verso giusto prima di queste elezioni. Lo ricordiamo, l'astensionismo è stato davvero da record in questo turno elettorale, sia per quanto riguarda le europee ma anche per le amministrative. La scuola, tempo di esami di maturità per 46 mila ragazzi, ma il primo scoglio è proprio l'ammissione agli esami. Il retroscena, corsa affollata per guidare il teatro biondo, altri registi in lizza. Si parla anche di calcio, lauricella campione da brancaccio alla vetta d'Europa. Ancora voto, la mappa in questo caso a Palermo, un voto multicolore, quattro partiti si dividono la città. E ancora il personaggio, io figlia di un'eroina civile, prima donna a governare il paese di Impastato. Si tratta di Vera Abbate, che è stata eletta sindaco di Cinisi. E allora in bocca al lupo e buon lavoro anche al neosindaco. Lasciamo Repubblica a Palermo, restiamo però sulla Repubblica con l'edizione nazionale. Il post elezioni europee in Francia, in questo caso involuzione francese, questo è il titolo. Accordo tra il Rassemblement National e i repubblicani di Eric Ciotti sul voto politico di fine mese e una svolta che lacera i gollisti e scuote Parigi. Vigilia del G7, gli Stati Uniti parlano di un'intesa sugli asset russi, agli europei la difesa di Kiev, mentre un sottomarino nucleare di Mosca è vicino alla Florida. Meloni, i contatti segreti con Marine Le Pen e la tentazione, pensate un po', di tradire Ursula von der Leyen. Questo riporta stamane il quotidiano La Repubblica. Passiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, asse a destra contro Macron, annuncio shock dei repubblicani alle legislative con Le Pen, ma è rivolta. Il presidente, Macron ovviamente, dice non mi dimetto anche se perdo. Von der Leyen guarda a Meloni per il bis a Bruxelles lo scenario sui nuovi vice e commissari. Questi, dunque, vedete gli scossoni post-voto che possono dunque cambiare determinati equilibri, soprattutto sul fronte francese. Poi vedremo quali saranno effettivamente gli sviluppi. Andiamo avanti, ci spostiamo sul quotidiano La Stampa. Tra le altre cose si parla anche di pensioni, con Giorgia Meloni che boccia quota 41, schiaffo a Salvini. Giorgetti e la Premier puntano tutto su taglio del cuneo e sgravi per il lavoro. Domani intanto il via al G7 in Italia, tensioni con la Cina su Putin, commissario europeo ipotesi Colao o Cingolani. E poi lo sport in taglio centrale, Jimbo Jet Show, tamberi campione d'Europa nell'assalto in altro, mentre la Juve passa a Tiagomotta, oggi la firma, giuntoli a Londra per Douglas Lewis. Dunque pronto a entrare nel vivo il calciomercato, la campagna di rafforzamento della Juventus. La prima pagina del giornale che ricorda Silvio Bernusconi a un anno dalla scomparsa del Cavaliere. Pier Silvio Raduna, Mediaset, papà e amore. A Cologno la commemorazione con 2000 dipendenti, grazie di Presidente. Dunque grande affetto sempre per Silvio Berlusconi da parte non soltanto dei figli, ma anche appunto dei dipendenti di coloro che hanno avuto la possibilità di lavorare proprio al suo fianco. Il vertice salva Ucraina, da domani il G7 in Puglia. Si cerca l'intesa sui fondi congelati ai russi, Meloni accoglie i big internazionali e il Papa e si prepara a contare di più in Europa. Ecco invece la curriculum della Salis, due condanne definitive. Ricordiamo che Ilaria Salis è stata eletta ed è dunque un'eurodeputata, ma anche pregiudicata. Vedete, sottolinea in questo caso il quotidiano, il giornale. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Ci spostiamo sulla prima pagina della Fatto Quotidiano, che apre invece con questo preciso argomento. Voti mafiosi a Fratelli d'Italia e PD, meno votano, meglio è bipolarismo penale. Indagati il sindaco Dem Falcomatà e il big Meloniano. Lo scambio in Calabria, intercettazioni del 2020-21. L'uomo del clan diceva il Movimento 5 Stelle non ci ha chiesto nulla. Dalla Fatto Quotidiano alla prima pagina del messaggero, il caso Francia scuote l'Europa. Il patto Le Pen-Repubblicani cambia gli equilibri europei. Macron, se perdo non lascio. Meloni e il gioco di sponda con Marine Le Pen per ottenere più peso nella futura commissione. Cerimonia ad Arcore, un anno senza Berlusconi, ma con le sue idee Casini dice il bipolarismo è nato proprio con lui. Notizia di cronaca, uccide la moglie e va dai carabinieri e nel bagagliaio, lei era un medico, il fatto è avvenuto a Modena, si stavano contendendo l'affidamento dei due figli. Dalla prima pagina del messaggero alla prima pagina di Libero, Conte pronto a lasciare Faida, vedete, grillino, quindi Faida grillina nel movimento chiaramente. L'ex premier assediato dai suoi, perfino Travaglio lo affossa e a percentuali da Lidl. Si parla di guida alla Raggi e lei annuncia se sono un problema, me ne vado. Intervista invece ad Adriano Galliani, storico collaboratore, forse anche braccio destro di Silvio Berlusconi, soprattutto nel mondo della calcio, trionfi e autoscontri, la mia vita col cavaliere, parla, vedete, Adriano Galliani nell'anniversario della morte di Silvio Berlusconi. Il caso toti, niente libertà senza dimissioni, la procura verso il no alla scarcerazione potrebbe reiterare il reato. Parliamo adesso di sport, andiamo a vedere le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport che ovviamente celebra gli azzurri dell'atletica, in questo caso celebra il nostro Gimbo Tamberi volare, questo il titolo Tamberi ma anche battocletti d'oro e sono dieci. Agli europei di atletica Roma, gara incredibile, Gimbo sempre più re dell'alto con 2,37, festa poi con il presidente Mattarella. Dalla Gazzetta al Corriere dello Sport, Gimbo for President, titola il quotidiano romano. Agli europei di Roma arriva l'oro più atteso, quello di Tamberi che dunque continua a dimostrare il suo grande talento, tra i più grandi di sempre se non il più grande in assoluto nella sua disciplina. Buondi Motta invece, questo è il titolo per quanto riguarda il calcio mercato della Juve e il Tiago Day, il giorno dell'annuncio Giuntoli accelera su due colpi. Si tratta di Douglas Luiz, ormai a un passo, ma poi occhio all'idea Turam Junior. Chiudiamo questa rassegna con Tutto Sport, anche qui vedete Tutto Sport celebra i nostri azzurri agli europei, Straor Di Nadia e Gimbo for President. Mentre per quanto riguarda la Juve, Tiago firma, Botto Douglas giunto lì tra Cascais e Londra, doppio colpo Juve. Insomma la Juve si sta muovendo adesso dopo aver scelto il nuovo allenatore e pronta a chiudere anche con i primi colpi di mercato. Noi invece chiudiamo questa rassegna stampa, ma ovviamente l'informazione non si ferma sui nostri canali. Partiamo a breve come sempre, tutte le nostre edizioni di Spazio e Notizia per aggiornarvi lungo questo mercoledì. mercoledì e allora anche oggi come sempre vi invitiamo a rimanere con noi a più tardi.